Credo che lei debba fare un commento su queste immagini, sono passate molte ore, però la notizia è defragrante, anche per il suo onore, è una storia di onestà, di attenzione alla legge, di legalità, di battaglie, il fatto che sia qua dimostra che uno ha coraggio, perché dopo aver visto questa roba uno si può chiudere in se stesso, io l'apprezzo molto da questo punto di vista. Però devo chiederle un commento, io che la conosco da tempo, mi sembra una persona, come la commenta questa cosa qua? Sembrava la mia controfigura, dottore, io non so in quel momento che cosa mi sia successo, la mia famiglia non mi ha riconosciuto, io stesso non connettevo, dottore, il piano anti-covid l'ho fatto io. Perché da come dice lì? Addirittura sembra che apprenda in quel momento del piano anti-covid, che aspetta lei da fare, perché le chiede questo la lettera. Io rimango basito, lei non è un barista, è una persona che ha una storia. Mi deve credere, io non mi riconosco in quell'intervista, non so che cosa sia successo, sto cercando di capire con un medico se ho avuto un malore o ho avuto qualche altra cosa. Perché quell'intervista arriva e è preceduta da una serie di attacchi che mi arrivano per via mediatica e per via istituzionale. Ed è la conclusione logica di un attacco di delegittimazione di una persona che aveva fatto in Calabria, e il dottor Le Magistris lo sa che significa lavorare in Calabria, quando tocchi degli interessi devi essere eliminato.